Il 5 marzo del 2004 un aereo militare messicano che stava facendo una ricognizione sulla provincia di Campece si è accorto di essere accompagnato da un gruppo di oggetti volanti non identificati. Ma la cosa più interessante è che gli oggetti volanti comparivano sulla telecamera ad infrarosso dell'aereo ma non erano visibili ad occhio nudo. Se in quel momento l'aereo non avesse avuto la telecamera in funzione l'equipaggio non si sarebbe accorto di lungo. No, non è normale, ma l'icono appareceva lì, stava nel radar e lì stava. A ver, Ivan, Ivan a una velocità però... Il governo messicano ha deciso di rendere pubblico il filmato pur non sapendo dare alcuna spiegazione per questo episodio. Ben diverso l'atteggiamento del governo americano che ufficialmente non ha mai riconosciuto l'esistenza di oggetti volanti di origine sconosciuta. Questo ha causato, negli ultimi anni, una vera e propria ondata di ex militari, piloti civili, controllori di volo e persino ex astronauti che accusano le alte gerarchie militari di tacere al mondo l'esistenza di questi mezzi di origine sconosciuta, della quale sarebbero al corrente da moltissimi anni. Nel luglio del 2008 alcuni ex militari americani hanno rivelato pubblicamente che in più di un'occasione questi oggetti non identificati sono riusciti a neutralizzare con estrema facilità agli impianti missilistici atomici degli Stati Uniti. Nel 1964 il tenente Robert Jacobs era un cineoperatore dell'esercito americano, distanza alla base aerea di Vandenberghe in California. Mentre stava filmando un test missilistico vide un oggetto volante entrare nell'inquadratura, distruggere la testata nucleare del missile e poi scomparire nella stessa direzione da cui era venuto. La velocità a cui si muoveva l'oggetto volante, oltre 12.000 km all'ora e la sua capacità di cambiare direzione in qualunque momento, portarono i militari ad escludere che la sua origine fosse di tipo terrestre. Dopo che i superiori di Jacobs ebbero visto il filmato, lo sequestrarono e lo consegnarono alla CIA. A Jacobs fu imposto di non dire nulla. La testimonianza di Jacobs è confermata da quella di Ross Didikson, che al tempo era un colonnello dell'aviazione militare. Nel 1967 Robert Salas era incaricato del controllo delle rampe di lancio dei missili contestate atomica della base di Maelstrom nel Montana. Si era in piena guerra fredda e i missili americani contestata nucleare venivano tenuti costantemente armati, pronti ad essere lanciati in qualunque momento. Mentre Salas si trovava sottoterra nella stanza di controllo, fu informato che uno strano oggetto volante era improvvisamente comparso in cielo e stazionava ad alcuni minuti proprio sopra l'ingresso della base. Anche la testimonianza di Salas, è supportata da quella di un altro colonnello, Dwayne Arson. Dwayne Arson said that the crew going on duty and the crew coming off duty all saw the UFO just hovering in midair. It was a metallic, circular object and something turned those missiles off and so they could not be put in a mode of launching. It's important to bear in mind that these missiles are designed to be independent systems. So if you do something to affect one missile, it won't affect all the other missiles because they're totally separate. The actual reason for so many missiles going down simultaneously was a big puzzle. Anche a Salas fu imposto di non rivelare mai nulla dell'accaduto. La guerra per la verità sugli UFO, fra cittadini e militari americani, iniziò nel lontano 1947 con il noto episodio di Roswell, che rimane a tutt'oggi al centro di forti polemiche. È interessante notare come proprio a Roswell avesse sede la base militare che ospitava il celebre squadrone di bombardieri che due anni prima aveva sganciato le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel pomeriggio del 4 di luglio, il giorno della festa nazionale americana, diverse persone videro uno strano oggetto volante abbattersi in una zona desertica nelle vicinanze della città. Il primo ad arrivare sul posto fu Mac Brazel, il proprietario di un ranch che si trovava nelle vicinanze. Brazel raccolse alcuni dei rottami, ma non riuscendo a capire di cosa fossero fatti, decise di portarli allo sceriffo della città, George Wilcox. A sua volta Wilcox, stupito da questi materiali che non aveva mai visto prima, avvisò la vicina base militare. Il caso fu assegnato al maggiore Jesse Marcel, che era responsabile dell'intelligence della base. Marcel si recò sul luogo dell'incidente e raccolse altri rottami. Sulla via del ritorno si fermò a casa per mostrargli al figlio, Jesse Junior. Un'altra persona che ha potuto vedere questi frammenti è Frankie Rowe, la figlia del capo dei pompieri della città, che all'epoca aveva 11 anni. La sera stessa del ritrovamento, il comandante della base, il colonnello Butch Blanchard, diede alla stampa lo straordinario annuncio che erano stati recuperati dei resti di un disco volante. Il mattino dopo, tutti i giornali riportavano la notizia, che fu ripresa dalla radio e immediatamente diffusa in tutta America. Ma nell'arco di 24 ore sarebbe cambiato tutto. Jesse Marcel fu chiamato d'urgenza alla base militare di Fort Worth, nel Texas, comandata dal generale Remy. Qui Remy convocò una conferenza stampa nella quale Jesse Marcel dovette presentare dei rottami di un pallone aerostatico al posto di quelli da lui ritrovati nel deserto di Roswell. I giornali pubblicarono immediatamente la smentita e la notizia del disco volante fu ufficialmente dichiarata morte. Questo è il commento del figlio di Marcel sull'episodio. Pio avanti, Jesse Marcel avrebbe confessato al figlio che si era trattato effettivamente di un insabbiamento da parte dei militari. Marcel disse al figlio che gli avevano ordinato di posare con i resti del pallone aerostatico e di non dire più una sola parola su quello che aveva visto veramente Roswell. Jesse Marcel non raccontò mai pubblicamente quello che aveva visto. Prima di morire però rilasciò questa intervista. Nonostante la smentita ufficiale, la gente di Roswell era ormai convinta che si fosse trattato di un disco volante. I giornalisti del posto ricevevano richieste di chiarimenti da ogni parte del mondo e ripetevano a tutti che l'oggetto caduto non era di origine terrestre. A quel punto si abbatté su Roswell una vera e propria ondata di minacce da parte delle autorità militari che raggiunsero tutti coloro che in qualche misura erano venuti a conoscenza del ritrovamento. Frank Joyce era stato uno dei primi a dare la notizia del disco volante a la radio. There was a young lady on the line saying, Colonel so and so, this is the Pentagon calling. And the voice on the line says, do you put that story on the air about the flying saucers? And I mean his voice was, you know, the type that really conveys menace and power. And I said, yes I did. And he says, you're gonna get in a lot of trouble for this or made some, some threatening comment. And I said, look, I'm a civilian. You can't tell me what to do in stories I put on the air. And he says, I'll show you what I can do. And bang, hung up the phone. Dopo pochi minuti, il proprietario della radio per cui lavorava Joyce ricevette una chiamata da Washington. I got a call from Washington saying, look, if you put out any stories on this thing, we're going to lose your license. It's not going to be over a period of time, it's going to be the same day that we tell you that you're off the air. He had this club or stick or whatever it was and he was beating it on his hand. And he would hit it. Every time he would say something, he'd hit his hand. And he said, I want you to know you were never there. I didn't understand what he meant. Cause I said, yes, I was. And he said, no, you weren't. I said, yes, I was. And he said, can't you get this through your head? You never saw anything. You were not there. You don't know anything. And he said, you know, this is a big desert out here. We can just take you out in the middle of this desert and no one will ever find your bodies. He said, you'll be nothing but bones and nobody will ever know what happened to you. Nonostante il tentativo di mettere tutto a tacere, le voci del disco volante continuavano a circolare un po' dovunque. Le autorità militari cambiarono allora per la seconda volta la versione ufficiale e dissero che si era trattato di un'arma segreta composta da un pallone aerostatico e da un velivolo a forma di disco volante. Ma ormai era tardi e la febbre dei dischi volanti si stava impadronendo di tutta l'America. Centinaia di avvistamenti venivano registrati un po' ovunque, le pubblicazioni di settore inondavano il mercato e nascevano veri e propri club di appassionati che sostenevano di aver visto di persona i dischi volanti e pensavano che presto il governo americano avrebbe annunciato ufficialmente l'esistenza di visitatori da altri pianeti. Invece accade l'esatto contrario. Per affronteggiare la spinta popolare il governo mise in piedi il cosiddetto progetto SAEN o segnale che aveva ufficialmente il compito di spiegare le centinaia di avvistamenti che si andavano registrando un po' ovunque in America. Ma quando fu presentato il rapporto vi fu un momento di notevole imbarazzo poiché gli stessi militari riconobbero di non saper spiegare buona parte dei casi analizzati. I responsabili furono subito sostituiti e il progetto fu ribattezzato GRAGE che significa letteralmente risentimento o malumore. I nuovi membri del gruppo di ricerca furono chiaramente avvisati di non parlare mai più in pubblico dell'argomento UFO. Guidato dal Maggiore Quintanniglia GRAGE interveniva dopo ogni avvistamento e forniva subito una spiegazione di natura terrestre per ciascuno di loro. Quando tre professori dell'Ohio fotografarono questa formazione di globi luminosi nel cielo, GRAGE spiegò che si trattava di uno stormo di uccelli che rifletteva la luce della città sottostante. Quando vi fu un avvistamento multiplo nel quale testimoniarono anche i poliziotti della città, GRAGE spiegò che si era trattato di vapori di gas provenienti da una vicina laguna. Man mano che aumentavano le spiegazioni poco credibili, aumentavano anche i sospetti che i militari nascondessero la verità alla popolazione, ma loro hanno sempre continuato a sostenere che non ci fosse nulla da nascondere. Nel 1969 il progetto GRAGE veniva terminato e pubblicato con il nome più attraente di Project Blue Book. Vi erano elencati oltre 12.000 casi di avvistamento, divisi per anno, dei quali la grande maggioranza veniva spiegata da fenomeni naturali, casi di allucinazione oppure da velivoli o strumenti volanti di origine terrestre. Restavano però circa 700 casi che nemmeno i militari erano riusciti a spiegare. Nonostante questo, i responsabili del progetto Blue Book dichiararono enfaticamente che non ci sono prove che gli avvistamenti di tipo non identificato rappresentino tecnologie o principi che siano al di fuori della nostra conoscenza scientifica e che non vi sono prove che gli avvistamenti di tipo non identificato siano veicoli di origine extraterrestre. Con questa sentenza i militari americani chiudevano per sempre le loro ricerche ufficiali sui cosiddetti UFO dichiarando che per loro il problema non esisteva. Ma alcuni documenti interni degli stessi militari desecretati di recente raccontano una storia molto diversa. Il fenomeno riportato è reale, diceva uno di essi, e non è frutto di allucinazioni e nemmeno inventato. In un memo interno dell'FBI, leggiamo, è stato stabilito che questi dischi volanti non sono il risultato di esperimenti dell'esercito o dell'aviazione. In un altro documento del Pentagono si legge, i dischi volanti esistono. La questione è coperta dal massimo livello di sicurezza negli Stati Uniti, superiore perfino a quello della bomba atomica. Nel frattempo gli avvistamenti continuavano ad aumentare e il compito dei militari fu rilevato da un'associazione privata di ricercatori e scienziati, il Mutual UFO Network o MUFON. Liberi dalle pastoie governative, gli esperti di MUFON si dedicavano semplicemente a raccogliere e catalogare tutti gli avvistamenti segnalati senza tentarne alcuna interpretazione né in un senso né nell'altro. Da allora MUFON è cresciuta enormemente ed oggi è una vera e propria organizzazione internazionale con uffici in tutte le località del mondo. Soltanto in America MUFON dispone di oltre mille investigatori privati che vengono mandati sul campo solo dopo aver superato un esame specifico che li prepari ad affrontare le interviste in maniera completa e uniforme. Il lavoro dell'investigatore non è di esprimere un'opinione, non è di influenzare le notizie, ma di sostanzialmente di mantenere la mano a scuola, di ascoltare ciò che hanno di dire e di metterelo in una forma significativa. E bisogna avere alcuna training per poter approcciare il soggetto in modo giusto. A quel punto gli investigatori vengono dotati di registratore, macchina fotografica, rilevatori geosatellitari e di tutto quanto serve per completare le interviste ai testimoni degli avvistamenti. I dati raccolti vengono mandati alla centrale dove operatori specializzati analizzano con criteri scientifici diversi casi riportati e scartano tutti quelli che appaiono palesemente falsi o sospetti, come quelli che sono spiegabili con fenomeni naturali o comunque di natura terrestre. Il resto viene accuratamente catalogato e archiviato. A differenza dei militari, MUFON mette i propri archivi a disposizione di chiunque voglia consultarli tramite internet. Abbiamo così una lista con migliaia di avvistamenti ritenuti legittimi che parte dal 1878 ed arriva fino ad oggi. Una forte percentuale delle segnalazioni giunge dalla zona sud-ovest degli Stati Uniti, cioè gli stati di Arizona, New Mexico e Texas. È la zona dove avviene buona parte della ricerca atomica militare americana. Negli ultimi anni si è giunto anche il Messico con una vera e propria marea di avvistamenti collettivi. Ma vi sono ormai segnalazioni valide e documentate da ogni parte del mondo. Nonostante la severità dei criteri utilizzati da MUFON, è possibile che alcuni di questi casi siano comunque frutto di errori, allucinazioni oppure trucchi talmente ben fatti da non essere stati scoperti. Ma ve ne sono almeno altrettanti nella storia degli ultimi 50 anni che sfuggono ad ogni possibile spiegazione di tipo terrestre. Il primo caso storico è quello della cosiddetta battaglia di Los Angeles, che è bel luogo nella notte del 24 febbraio 1942. Verso le due del mattino, un enorme oggetto volante non identificato si presentò improvvisamente sui cieli della città californiana. Erano passati solo tre mesi dall'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e subito gli americani credettero di essere attaccati da qualche strano velivolo di guerra giapponese. Ma l'oggetto misterioso, che si muoveva nel cielo molto lentamente, si rivelò del tutto invulnerabile ai colpi della contraerea americana. Nell'arco di 20 minuti furono sparati contro l'oggetto volante più di 1700 colpi di artiglieria pesante, ma gli unici danni furono registrati fra la stessa popolazione a causa delle schegge metalliche che ricadevano dal cielo. Vi furono tre morti e alcuni feriti gravi, mentre l'oggetto volante si allontanò tranquillamente nella notte, sotto gli occhi di tutti, senza aver sganciato una sola bomba sulla città. Un altro caso storico è quello delle cosiddette luci di Lubbock. Centinaia di persone riportarono avvistamenti multipli di una strana formazione di luci che attraversò più volte il cielo della cittadina texana. Un gruppo di professori riuscì a fare alcuni scatti della formazione durante l'ultimo dei suoi passaggi. Le immagini sono state analizzate e dichiarate autentiche più di una volta. Nel 1958 una spedizione geologica della Marina brasiliana avvistò uno strano oggetto volante vicino all'isola di Trinidad a largo del Brasile. Il fotografo della squadra, Almiro Braugna, riuscì a scattare diverse immagini dell'oggetto sconosciuto che scomparve per pochi istanti alla loro vista dietro all'isola prima di ricomparire lanciato a gran velocità in direzione opposta. Oltre 50 dei 300 marinai a bordo videro lo stesso oggetto che si muoveva in cielo in maniera erratica ad altissima velocità senza mai produrre il minimo suono. In seguito la stessa marina brasiliana fece analizzare i negativi di Braugna e concluse che non vi fossero segni di manipolazione di alcun tipo. L'oggetto ripreso sopra Trinidad era reale e le sue prestazioni eccezionali rimangono qualcosa di inspiegabile perfino con le più attuali tecnologie moderne. Uno dei casi più famosi in assoluto si verificò in Inghilterra nel 1980 presso la doppia base militare americana di Bentwater e Woodbridge che al tempo erano armate contestate nucleari. Verso le due di notte i militari di guardia videro un oggetto luminoso posarsi nella piccola foresta di Randlesham che si trova proprio fra le due basi. Il primo gruppo di soldati che uscì in ispezione si trovò davanti uno strano oggetto luminoso di forma ovoidale che galleggiava silenzioso in mezzo alla boscaglia pochi centimetri da terra. A quel punto i militari chiamarono il vicecomandante della base il colonnello Charles Holt che si recò sul posto ben poco convinto di quello che gli avevano raccontato. Holt aveva con sé un piccolo registratore a cassette che usava abitualmente per prendere appunti. Abbiamo così una registrazione indiretta di quello che gli uomini di Holt andavano man mano scoprendo nella boscaglia. Nel punto in cui i soldati avevano visto l'oggetto luminoso furono trovate tre zone circolari con uno schiacciamento di circa 15 centimetri ciascuno. I tre punti formavano una figura di triangolo praticamente equilatero. Al centro del triangolo inoltre gli uomini di Holt registrarono valori di radioattività decisamente superiori alla media. Nicholas Pope a quel tempo lavorava per il Ministero della Difesa inglese. Anche gli alberi intorno allo spiazzo mostravano molti rami spezzati di recente. Ma la sorpresa maggiore per Holt e i suoi uomini doveva ancora arrivare. Jim Burroughs would say to Jim Penison, do you see that? Do you see what's out there at the edge of the trees? And as we got closer and closer and I saw it, it's like just looking up and then I could see it moving left, right, left, right, and then. Here he comes from the side. He's coming toward us now. Strange. And the flash is so bright through the star scope that it almost burns your eye. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. It was kind of difficult going from a skeptic to suddenly a party involved in the whole thing. I really didn't know quite how to react. I guess I was a little concerned that are people really going to believe me when I tell the truth and that's I thought I had no choice but to tell the truth. Holt presentò ai suoi superiori un rapporto completo e dettagliato dell'incidente insieme ad una copia della cassetta registrata. Nonostante questo, i militari americani non hanno mai riconosciuto la presenza sulla loro base di un oggetto volante non identificato. A militari, presenti quella sera, fu fatto firmare un documento in cui affermavano di aver visto soltanto la luce di un faro in lontaranza. Il ministero della difesa inglese si affrettò ad appoggiare la tesi americana dicendo che l'episodio non aveva rappresentato motivo di preoccupazione per la sicurezza militare. Ma non tutti furono d'accordo. quindi questo è un'applicazione che è proprio fatto che, come ha testato il col. Holt hampired. Il l'altro è che la 3D. Poi è un'applicazione che non ha riporto. E' in questo caso, uno è pensato che il col. Holt e all i testi tutti i milioni erano veri che il col. di un alluvimento americani in suffolk e i avvito di solte i tutti i gesti Nel 1990, centinaia di persone avvistate Trattarono uno strano oggetto volante nei cieli della cittadina di Eupen, nel Belgio I primi a rendersi conto della sua presenza furono due poliziotti della locale gendarmeria Lo stesso oggetto fu visto poco più tardi da un altro gruppo di polizioni L'oggetto volante è anche comparso su diversi radar militari della zona L'aviazione provò ad inseguire l'oggetto volante Ma questo si dimostrò capace di tali manovre da eludere regolarmente i caccia in avvicinamento This is to confirm that we now have a lock-on The pilots confirmed that it was impossible for them to accelerate as quick as the target was The object dropped from 10,000 feet to 500 feet in a few seconds That's not like, you know, super technology, that's Star Trek Il giorno dopo più di 600 persone riferirono di aver visto lo stesso oggetto sopra il cielo della città La descrizione era più o meno la stessa per tutti L'oggetto aveva forma triangolare con tre potenti luce vertici del triangolo e una luce meno potente al centro Questa fotografia originale, una volta elaborata al computer mostra chiaramente i contorni dell'oggetto esattamente come sono stati descritti da tutti i testimoni Da quel giorno il Belgio è stato travolto da una vera e propria ondata di avvistamenti che è durata diversi anni Il caso più famoso di avvistamento collettivo è sicuramente quello delle cosiddette luci di Phoenix in Arizona che risale al 1997 Più di 10.000 persone videro una formazione di luci molto potenti sostare sul cielo della città per lunghi minuti prima di scomparire nel nulla A loro volta ci sono molti filmati amatoriali che riprendono tutti più o meno la stessa cosa Altri testimoni dissero di aver visto un enorme oggetto volante a forma di V sostare a lungo silenzioso sul cielo della vallata A causa della sua forma a V qualcuno ha suggerito che si potesse trattare di un bombardiere B-2 dell'esercito americano Ma i B-2 non hanno luci di quel tipo sono tutt'altro che silenziosi e soprattutto non possono stare fermi in cielo Queste sono le proporzioni di un normale Boeing 727 rispetto all'oggetto descritto da dozzine di testimoni Poiché la curiosità popolare non accennava a diminuire il governatore dello Stato, Symington promise una approfondita indagine sugli avvistamenti Poco dopo convocò una conferenza stampa annunciando di aver trovato la soluzione del mistero Ma si trattava solo di uno scherzo inteso a sdramatizzare la situazione I giornalisti risero di gusto ma i cittadini di Phoenix non la presero molto bene Ma la gente di Phoenix non si arrendeva e voleva sapere a tutti i costi cosa fosse quell'oggetto volante I militari dissero allora che si era trattato di una esercitazione notturna nella quale avevano sganciato dal cielo delle fiaccole volanti di quelle usate normalmente per illuminare il terreno durante le azioni di guerra Ma nuovamente ci credettero in po' Ma la sorpresa più grande sarebbe arrivata dallo stesso governatore Symington dopo la fine del suo mandato Una volta tornato nei panni del normale cittadino Symington confessò di aver visto lui stesso la grande astronave di cui tutti parlavano Questa è la spiegazione data da Symington per aver deciso di mentire alla popolazione dieci anni prima Ma lui stesso sembra esserne rimasto profondamente colpito Molto credibili sono anche gli avvistamenti che avvengono in presenza di autorità governative come nel caso dell'avvistamento di Jalapa in Messico avvenuto nel 2005 Nel corso di una pubblica cerimonia nella quale il governatore della provincia assisteva alla consegna di nuove auto della polizia fu avvistata in cielo una formazione di oggetti volanti non identificati che fu ripresa dagli stessi operatori delle tv locali Ma il motivo per cui il Messico è diventato famoso nella storia degli UFO è la regolare comparsa nel cielo di vere e proprie flotte di oggetti volanti sconosciuti è un gruppo di oggetti di più di tre si le chiamo flottilla che viajano viajano sia horizontal o verticalmente con un'altra forma extraña sia boomerangs esferas discos grazie a tutti Grazie a tutti. Anche in Europa ultimamente hanno cominciato a comparire vere e proprie flottiglie di oggetti volanti sconosciuti. Questo caso si è verificato ad Eilinton in Inghilterra nel febbraio del 2007. Nel gennaio del 2008 gli abitanti della cittadina di Stephenville, Texas, sono stati testimoni di una serie di avvistamenti che nessuno finora ha saputo spiegare. Fra di loro c'era anche l'ufficiale giudiziario della Contea, Leroy Gaten. Steve Allen è un imprenditore locale ed è anche un pilota di aerei da turismo. I saw due strobe lights coming towards us at a very high rate of speed. The closer it got, the slower they got. I saw several white lights, bright lights. They appeared to be like strobe lights and they were moving around the sky, not really grouped together. They were pretty far apart, just bouncing around. Questo video amatoriale sembra confermare la testimonianza di Leroy Gaten, che ha parlato più volte di luci che danzavano in cielo. Dopo un po' di tempo l'oggetto volante avvistato da Steve Allen è ripassato in direzione opposta, inseguito da due aerei militari. 10 minuti dopo l'oggetto ha riempirato e è stato quando abbiamo visto i due jet militari che siamo in pursuit of chasing it e si è andato all'estero. Il mezzo volante è venuto a fermarsi proprio sopra la testa di Ricky Sorrells, un allevatore della zona che in quel momento si trovava in aperta campagna. I looked up and there it was and this thing was huge. It was so big that I couldn't see the edges through the canopy of the trees. Where did it go Ricky? Where did this thing go? Nei giorni seguenti gli uffici locali di Mufon sono stati letteralmente invasi da centinaia di cittadini che volevano raccontare la propria esperienza e confrontarla con quella degli altri. At midnight, when I go to bed, I just turn the camera on and catch that. What it is, I don't know. It's a ball of fire coming through the clouds. And then the sky did this. Rear end would come over and then the bottom end would come over and just kept doing that, head over. And then it would go from left to right and I believe there's other people out there. We have NASA that explores, they may have a NASA of their sort that explores. I think they're so amazed at us because we're such primitive compared to their standards. I think it's kind of like us watching an ant farm. I think that's the way they're doing this. Naturalmente, la presenza di questi misteriosi mezzi volanti non significa che la loro origine sia per forza di natura extraterrestre e c'è anche chi sostiene che si tratti in realtà di veicoli militari segreti di tipo terrestre. In fondo, già gli scienziati di Hitler avevano cercato di costruire velivoli di forma discoidale con i quali speravano di ribaltare all'ultimo momento le sorti negative della guerra in corso. E, dopo il crollo del nazismo, i loro studi furono ripresi negli Stati Uniti sotto lo stretto controllo di CIA e Pentagono. All'inizio degli anni 50, l'inventore inglese John Frost, che lavorava per la compagnia aerospaziale canadese Avro, propose agli Stati Uniti un modello di disco volante in grado di manovrare con l'agilità di un elicottero, di raggiungere altitudini eccezionali e di viaggiare a velocità supersoniche. John Frost ha avuto la promessa di qualcosa che nessuno potrebbe aiutare a questo punto. Un supersonic, più di più oltre di più che la velocità di sonica. Il Pentagono investì 10 milioni di dollari nel progetto, ma il prototipo esplose negli hangar con conseguenze disastrose, prima ancora di essere collaudato. Frost ripiegò allora su un progetto più modesto, che sarebbe servito da piattaforma per lo sviluppo del disco volante vero e proprio. Si chiamava Avrocar e doveva essere una specie di jeep del cielo, in grado di pattugliare ampie zone di territorio con relativa facilità. Il prototipo fu presentato ai generali del Pentagono nel 1959, ma fin dal primo collaudo mostrò enormi limiti di manovrabilità, dovuti soprattutto alla mancanza della coda e degli stabilizzatori laterali. furono fatti svariati tentativi per migliorare il prototipo, ma alla fine il Pentagono rinunciò al progetto e la Avrocar non entrò mai in produzione. Nel frattempo c'erano già stati casi come quello di Trinidad oppure quello di Lubbock, in cui i mezzi volanti avevano messo in mostra capacità operative eccezionali, non solo rispetto alle tecnologie di allora, ma persino a quelle di oggi. Negli anni 60 i militari svilupparono altri velivoli di forma discoidale che si disse erano in grado di volare, e sono centinaia gli appassionati che sostengono di aver visto volare strani oggetti misteriosi nelle vicinanze della famosa base segreta del Nevada, conosciuta come Area 51. In ogni caso, si tratta sempre di velivoli spinti da normali motori a turbina, molto rumorosi, che necessitano di lunghe piste d'aeroporto, come appunto quella dell'Area 51, per atterrare e decollare. Siamo ben lontani dalle astronavi larghe mezzo chilometro, descritte da molteplici testimoni, che restano sospese in aria senza fare il minimo rumore, e poi ripartono a velocità assolutamente impensabili per le nostre tecnologie. Inoltre, si è scoperto di recente che certe immagini, fatte circolare negli anni 60 in una particolare aura di segretezza, erano in realtà dei banali fotomontaggi. In questo caso, il disco volante aveva preso il posto di un jet supersonico sperimentale della serie X-15. Qui, invece, i due dischi volanti coprivano lo stesso X-15 e un normale bombardiere dell'aviazione americana. A conferma della scarsa probabilità che tutti gli UFO mai avvistati siano di origine terrestre, vi sono molte testimonianze degli stessi piloti militari, come ad esempio quella del capitano Huertas dell'aviazione peruviana. Nel 1980, racconta Huertas, uno strano oggetto volante fu visto galleggiare da oltre 1800 militari nel cielo sopra la base peruviana di Arecipo. Mi comandante di unità mi dio la ordine di despegar il jet Sukhoi-22 per dispararle al objeto esferico, perché stava in spazio proibito, senza permesso e temiamo spionaggio. Io mi acerchavo al objeto e le disparo 64 obusi di 30 mm. Alcuni obusi fuero contro il terreno e altri le pegarono di lleno al objeto, però senza nessun effetto. L'obusi non rebotaron, probabilmente fossero absorbito. La pared di fogo in forma di cono che io mandato normalmente abbia destruito qualche obietto in suo cammino. Il obietto, quindi, si è stato a subire e a alejarci della base. E quando io stava a unos 11.000 metri, di repente si detuvo, forzandome a salire del lato perché già mi trova a solo 500 metri di lui. Quindi, ho fatto un ascenso per atacarlo desde arriba, però proprio quando io lo avevo centrato in la mira e stava listo a disparar, il obietto è un ascenso vertical evadendo mi ataque. Dos veces più, ho fatto il obietto in la mira, quando è stato stato estacionario, e cada vez se alejò al ultimo momento antes di mio disparo. Quindi, ho fatto un ascenso a toda velocità per ponermi molto per encima del obietto, però è stato a subire anche e quasi in parallelo con il mio avione. Quando soppassé i 19.000 metri, il obietto si detuvo. Fue entonces che mi acerqué a 100 metri del obietto. Tenia unos 10 metri diàmetri, stava come esmaltato con una cúpula di color crema, sobre una base metàlica ancha e circular. No tenia motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía de todos los implementos típicos de un avión e sin ningún sistema visible de propulsión. Fue en ese momento que me di cuenta che questo non era un obietto per espiar, sino che era un ovni, algo completamente desconocido. Ya casi non tenia combustibile, o sea che non podía ni atacar, ni maniobrar mi avión, tampocco escaparmi a alta velocità, y sentí temor. Quizás este era mi fin. Tuve que planear parte de mi descenso por falta de combustible, haciendo zigzag y siempre viendo por mis espejos retrovisores con la esperanza de que el objeto no me persiguiera. No pasó nada. Después de que aterrissé, el objeto permaneció estacionario en el cielo por dos horas más a la vista de todos en la base. Todavía me da escalofrio cuando me acuerdo. Se davvero i militari di oggi disponessero di tali tecnologie, non si comprende perché non le usino e continuino ad andare in guerra con i carri armati di una volta. Un altro gruppo di avvistamenti molto credibili è quello da parte dei piloti civili, che osservano spesso, lungo le rotte commerciali, degli oggetti volanti non identificati dalle dimensioni e dalle prestazioni davvero eccezionali. Los pilotos hacen especialmente buenos witness UFOs. They know what's normal in the sky and what isn't. They've seen all different kinds of airplanes routinely. When a pilot reports the UFO, there's a better than average chance that that's what it was. 28 febbraio 1996. Il volo Air Shuttle 5959 da Detroit a Cleveland osserva uno strano oggetto di luce pulsante che sembra sospeso fra le nuvole sotto di loro. Durante lo scambio interviene un secondo aereo, Mesaba 3179, che ha sentito la conversazione. Is that northwesterno Detroit, did you see that light? Yeah. That's what I saw, a real bright white light, sometimes flickering underneath the clouds. Air Shuttle 5959, is that traffic that you saw earlier, do you see him out there any longer? And that's permanent. It looks like a rotating light around it, like a 50 type thing that's going around it. We're home. The Sabah 3179, would you think it might be like a reflection, maybe perhaps off a beacon, that for some reason is just one of those weird things, natural phenomena, because I got nothing out there. This is definitely a distinct whiteish, well, there it's looking a little red and greenish, light sort of pulsating, and it is consonant, it's not a beacon. A questo punto, il pilota del primo aereo decide di scendere di quota per cercare di capire di cosa si tratti. The Sabah 5959, just keep it advised, we're descending to 4000 feet right now, and as we descended to 10.000 feet, that object is a bomb right now, it is not on the ground, it's about 10.000 feet. Tell you what, that is weird, if you're sitting in the pulsating. 18 novembre 1995. The flight of Lufthansa 405, from New York to Frankfurt, is encroached in the ciel by a object not identified by a cylinder, with a strong light in front, and a strong light in front, and a strong light in front, and a densa scia of green light in front, it's about 10 minutes, we've passed it just one minute ago, and it's really strange. Lo stesso oggetto viene visto anche dal pilota del volo British Airways 226, che segue il volo Lufthansa sulla stessa rotta. Lufthansa 405, how far off to your side did that traffic pass? It was pretty close, and like the speedlight said, it looked like two or three feet above on the left wing, just one mile, looked like a... Un caso simile era avvenuto al volo Swiss Air 127 nell'agosto dello stesso anno. 26 maggio 1995. L'equipaggio del volo America West 564 in viaggio dalla Florida al Nevada vede un enorme oggetto a forma di sigaro con una serie di luci lampeggianti che ruotano in senso anti-orario galleggiare immobile nel cielo del Texas. non vedendo nulla sul proprio radar, i controllori civili contattano i militari del NORAD, il sistema di difesa aerea americana che conferma di non avere operazioni in corso in quella zona. dopo qualche minuto il NORAD richiama l'avviazione civile e conferma l'avvistamento sui propri radar. Hey, we're tracking a search only track kind of where that might have happened. We've been tracking it for about 3-4 minutes now. Nel frattempo, l'enorme oggetto a forma di sigaro, lungo oltre 100 metri, è scomparso nel nulla. Avvistamenti di questo tipo sono molto comuni e pur trattandosi di oggetti con forma diversa, a volte ad ala, a volte a forma di sigaro, a volte discoidali, sembrano avere molte caratteristiche in comune. Compaiono all'improvviso, sono spesso di dimensioni enormi, sono capaci di galleggiare i mobili nel cielo come di accelerare di colpo a migliaia di chilometri all'ora e scompaiono alla vista con la stessa facilità con cui sono comparsi. Nonostante la quantità sempre crescente di avvistamenti, l'aviazione civile e quella militare non riconoscono ufficialmente la loro esistenza e i piloti vengono regolarmente scoraggiati a parlarne in pubblico. I piloti che avevano visto cose e parlavano sulle cose, alcuni di loro si lasciarono, alcuni di loro si riconoscono e si trattano a case di nutcase e cose così. Se rapporti un ufo a l'UFAA potresti potremmo trasferire la tua licenza il prossimo giorno. L'UFAA, il militare, anche le autorità civili non vogliono sapere delle UFAA. Ma quali possono essere, ci si domanda, i veri motivi per questa rigorosa, sistematica ed ossessiva segretezza? Nel 1952 la città di Washington fu letteralmente sommersa da una serie di avvistamenti UFO al punto che fu ordinato ai piloti dei caccia di abbattere qualunque oggetto volante che si rifiutasse di atterrare. Ma gli UFO riuscivano regolarmente a deludere gli inseguimenti dei piloti americani. I was 18 years old. UFOs buzzed the Capitol and buzzed the White House on July 19, 1952. I recorded it in my diary. No one knew what it was. The switchboards lit up. Everybody was confused. A few days later, Truman, who was president then, had General Samford go on television. I have the kinescope, actually. And say, look, they're not ours and they're not Russian. We don't know what they are. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. La situazione aveva messo in allarme i più alti livelli governativi e il presidente Truman instaurò una commissione, il Robertson Panel, che per prima cosa suggerì proprio di tenere nascosta al pubblico la verità sugli UFO. The Robertson Panel concluded that it was in the best interest of the United States government to suppress media, coverage of UFO sightings. In particolare, il Robertson Panel suggeriva di utilizzare i mezzi di informazione, radio, giornali e televisione per negare sistematicamente ogni nuovo caso di avvistamento, mentre dava precise istruzioni per coprire di ridicolo chiunque provassi a sostenere l'esistenza di mezzi extraterrestri. Per la prima volta, compariva in un documento ufficiale il termine debunking, oggi comunemente usato per definire l'attività di chi si dedica a smontare qualunque voce contraria a quella governativa. In seguito veniva redatto il cosiddetto rapporto Brookings, nel quale si motivava la necessità di tenere il pubblico all'oscuro per evitare scene di panico collettivo. Il rapporto citava la famosa trasmissione radio di Orson Welles, andata in onda pochi anni prima, nella quale si descriveva una ipotetica invasione della Terra da parte dei marziani. Il racconto era stato preso per vero da moltissima gente che aveva scatenato un'ondata di panico e di suicidi in tutto il paese. Gli studi antropologici, concludeva il rapporto Brookings, contengono molti esempi di società sicure del proprio ruolo nell'universo che si sono disintegrate venendo a contatto con civiltà sconosciute, adottando idee e modi di vita differenti. Come ha fatto notare di recente un giornalista della CNN, però questa motivazione non sembra sufficiente a spiegare l'enorme livello di segretezza imposto sin da allora sull'argomento UFO. Subito dopo la fine della guerra mondiale era iniziata con la Russia la corsa all'armamento atomico e da quel giorno anche i russi avevano iniziato a ricevere strane visite da parte di oggetti volanti non identificati. Inizialmente gli americani temevano che gli oggetti non identificati avvistati nei loro cieli fossero russi e i russi temevano il contrario. Ma presto ambe due le nazioni si resero conto di avere a che fare con tecnologie troppo avanzate per essere attribuite all'avversario. L'astronauta Gordon Cooper a quei tempi faceva il collaudatore dei nuovissimi aerei da ricognizione U2 ed era quindi a conoscenza delle più avanzate tecnologie a disposizione degli americani in quel momento. Era quindi iniziata una competizione segreta fra russi e americani per riuscire ad impadronirsi di eventuali nuove tecnologie cercando di abbattere qualunque oggetto volante sconosciuto che si presentasse sul loro territorio. Circa un anno dopo l'incidente di Roswell anche i russi ebbero un'esperienza simile sopra la loro base militare di Capo Sinyar. Ambe due i velivoli si schiantarono a terra a pochi chilometri dalla base militare. È interessante notare come Capo Sinyar fosse l'esatto equivalente russo della base di Roswell in quanto vi si studiavano le più avanzate tecnologie belliche di tipo nucleare. Sergei Khrushchev è il figlio dell'ex premier russo Nikita Khrushchev che in quel periodo storico era alla guida del paese. Sembra quindi che l'UFO abbattuto su Capo Sinyar sia stato il primo velivolo di origine sconosciuta ad essere catturato dai russi esattamente come quello di Roswell sarebbe stato il primo catturato dagli americani. Ma nei cieli della Russia pare che le battaglie siano state molto più frequenti e brutali che nei cieli americani. L'ex pilota e cosmonauta Marina Popovic oggi un eroe nazionale conferma di aver assistito in cielo ad una battaglia fra un UFO e un MIG russo. La stessa Popovic vide durante un'altra missione un gruppo di UFO sopra i cieli della Russia. E' quindi comprensibile che anche la Russia come già l'America abbia cercato di mantenere sin dall'inizio la massima segretezza sul fenomeno UFO. Gli stessi agenti CIA infiltrati in Russia mandavano dispacci che confermavano gli avvistamenti da parte dei russi notando che venivano quasi sempre anche per loro nelle vicinanze delle basi con armamenti atomici. Negli anni 70 anche i russi ebbero un incidente che ricordava molto da vicino quello descritto da Robert Salas sulla base di Maelstrom nel Montana. Dopo che uno strano oggetto luminoso fu visto galleggiare nel cielo sopra una base missilistica dell'Ucraina uno dei missili contestata atomica iniziò improvvisamente la sequenza di lancio senza che nessuno l'avesse ordinato. Qualcuno o qualcosa aveva inserito il codice segreto che aveva messo in moto la sequenza irreversibile di lancio. Per 15 lunghissimi secondi i russi cercarono in tutti i modi di arrestare la procedura che avrebbe fatto partire il missile verso un bersaglio prefissato negli Stati Uniti ma non riuscirono a fare nulla. Pochi istanti prima del lancio l'oggetto volante si allontanò dai cieli della base della base e tutto tornò normale. In un altro caso sembra che un intero gruppo di missili balistici russi sia stato distrutto sulle rampe di lancio dall'intervento di questi oggetti volanti sconosciuti. Queste immagini secondo l'archivio di Stato russo che le ha rese pubbliche ritraggono le conseguenze dell'abbattimento da parte dei russi di due oggetti volanti sconosciuti sopra una loro base dotata di missili atomici. Ma ad un certo punto anche in Russia gli avvistamenti iniziarono a diventare troppi per fingere che il problema non esistesse. E così anche il KGB dovette far preparare un rapporto ufficiale sugli avvistamenti che ricordava molto da vicino il progetto Blue Book. Si chiamava Blue File o Archivio Blue e fu reso pubblico nel 1990. Il Blue File descriveva oltre 15.000 casi di avvistamenti inseguimenti scontri in cielo e abbattimenti veri e propri sia di UFO che di aerei russi fin nel minimo dettaglio. Nel frattempo Stati Uniti e Russia avevano firmato l'accordo nucleare del 1971 e avevano pensato bene di includere delle procedure per evitare di confondere la presenza di eventuali UFO nei propri cieli con normali velivoli della nazione avversaria. Negli accordi si leggeva ciascuna delle parti si impegna a notificare immediatamente l'altra qualora il suo sistema difensivo rilevi la presenza di oggetti non identificati che possano creare il rischio di una guerra nucleare fra le due nazioni. A chi potrebbero appartenere questi oggetti non identificati se non ad una delle due nazioni stesse. Ma soprattutto viene da chiedersi se già negli anni sessanta russi e americani avessero disposto di tecnologie in grado di disinnescare a piacimento i missili nucleari dell'avversario come è accaduto nella base di Maelstrom per gli americani oppure in quella ucraina per i russi come mai la guerra fredda è proseguita per altri vent'anni e come mai si continuano a costruire ancora oggi missili contestate anche l'Europa non è rimasta insensibile al problema degli UFO dopo il caso di Bentwaters in Inghilterra e soprattutto dopo l'ondata di avvistamenti del Belgio il presidente francese Chirac fece istituire una commissione composta da personaggi del massimo livello per studiare a fondo il fenomeno il gruppo di lavoro era chiamato Cometa ed era composto da scienziati come André Lebo il direttore del CNES l'equivalente francese della NASA il generale Norline ex comandante dell'aviazione francese Jean-Claude Rib noto scienziato ed ex direttore dell'osservatorio di Lione il titolo della ricerca era UFO e difesa a cosa dobbiamo prepararci il gruppo analizzò circa 500 casi di avvistamento da ogni parte del mondo concentrandosi soprattutto su quelli riportati da persone della massima credibilità come i piloti civili o militari il gruppo Cometa integrava le proprie indagini con rilevamenti e analisi scientifiche sul terreno dove erano avvenuti i presunti atterraggi degli UFO il rapporto il rapporto Cometa concludeva che questi oggetti volanti dimostrano la realtà del fenomeno UFO hanno notevoli prestazioni di volo silenzioso e sembrano operati da esseri intelligenti in assenza di altre spiegazioni del fenomeno l'ipotesi extraterrestre non può più essere ignorata questi extraterrestri hanno un'intelligenza superiore e sono tecnologicamente più progrediti di noi in quanto riescono ad ottenere risultati che noi ancora non sappiamo ottenere tutto questo concludeva il rapporto comporta delle gravi conseguenze a livello di sicurezza globale e rende necessario che le diverse nazioni affrontino congiuntamente la questione degli UFO ma il rapporto Cometa stranamente non trovò un solo editore americano disposto a pubblicarlo a parte un breve articolo sul Boston Globe nessun quotidiano del paese ne parlò ed ogni volta che i giornalisti proponevano l'argomento ai loro direttori venivano accolti da un secco rifiuto condito spesso di derisione Leslie Keen è una di loro sembra quindi che ancora oggi stiamo pagando le conseguenze della campagna di disinformazione e derisione messa in moto dal Robertson Panel negli anni 50 e perseguita con grande determinazione dal governo americano in tutti questi anni in the military they do ridicule you because I was ridiculed a few times I was told I would never make master sergeant if I brought this trap up again there seems to be some reason to discredit very viable and very reputable witnesses when they say something is unidentified now one of the things that I've found is that the way it's been kept secret to a big extent is the fact of through ridicule if it always had been just top secret I think most of the world would know about it at times I used to carry nuclear weapons in other words I was mentally fit to carry nuclear weapons and I'm not mentally fit if I see a UFO e laddove la derisione non fosse sufficiente si ricorre alle minacce vere e proprie it had been discussed with me on numerous occasions talked about what could happen to me militarily and what could happen to me even if I discuss this as a civilian anything to discredit you and you'd never get a promotion and I'd spend the next three and a half years up at the north pole living in a tent checking the weather balloons if their military personnel were to talk about this they could be court-martialed or at least threatened to be court-martialed to get them to back down and to scare them and he was talking about being erased and I said man I said what do you mean erased he said yes he said you will be erased he said they'll he said they'll go after not only you he said they'll go after your family and those were his words and they're yelling at me and they're hollering and cursing you didn't see anything you know and we'll do you and your whole god damn family and they're you know it was basically that for about eight or nine hours these guys they're just off on their own there's no oversight no control they just do whatever they want measures have been taken by agencies to terminate people who are who appear to be inconvenient or troublesome through knowing too much I would go interview people that claimed they had seen something and try to convince them they hadn't seen something or they were you know hallucinating or something well if that didn't work another team would come in and give all the threats and threaten them their family and so on so forth and they would be in charge of discreting them and make them look foolish or so on and so forth now if that didn't work then there was another team that put it into that problem one way or the other it was a real eye opener how deep the secrecy goes how deep the cover up is grazie a questa strategia basata sulla derisione e sull'intimidazione ancora oggi le mura del pentagono proteggono gelosamente tutte le più preziose informazioni mai raccolte sugli UFO negli ultimi 60 anni e grazie al fatto che il problema non è riconosciuto ufficialmente non è nemmeno possibile individuare l'entità a cui rivolgersi per avere chiarimenti in proposito persino presidenti come Jimmy Carter e Bill Clinton che hanno voluto sapere di più sulla questione degli UFO sono stati accolti da un muro di gomma impenetrabile quando Bill Clinton chiese di avere tutti i dossier esistenti sugli UFO ricevette questa lettera dalla NASA nessun organo governativo è attualmente incaricato di investigare gli UFO perché non vi sono prove tangibili che esistano esseri viventi su altri pianeti o che gli UFO abbiano a che fare con esseri alieni di recente Bill Clinton parlando del caso di Roswell ha rilasciato questa dichiarazione io ho cercato di sapere se vi fossero dei documenti governativi segreti che rivelavano qualcosa se esistono li hanno nascosti anche a me e in quel caso non sarei il primo presidente americano a cui i sottoposti hanno mentito o che i burocrati hanno ostacolato si profila così l'esistenza di una invisibile elite militare che in qualche modo detiene da 60 anni le informazioni più importanti sugli UFO e che sfugge al controllo di qualunque organo legale governativo è un tipo come posso capire di un livello di governo e questo è un grande concern quando lavorava il sistema di radar della Defense Intelligence Agency John Maynard si accorse che qualcosa non andava e chiese chiarimenti a un suo superiore I notice the satellite's positionings I said this is supposed to be a system that tracks radar anomalies on Earth right the whole thing the movement yep that's what it does and I said why aren't half of them pointed towards the outer space towards the moon towards areas that are just blank space well I don't know that's the reply he says never thought about it I said, well, at least half of those satellites you've got up there aren't looking at Earth. I said, what are they looking for? He says, well, you've got to have a need to know about that. I said, I see. In other words, who's coming? He says, we don't know. End of subject. There's only probably about 25 people in the world that know things that are known at that level. It requires to be further protected to ensure that there is only a limited access to that information to a small number of people. So small you can put them on a list of paper or on a piece of paper and list them by name. Depending on the level of the compartmentalization and the secrecy level, you have to go through a fairly significant background check. It takes between six months to a year to get the background checks. And then when you do that, then you have to sign a statement that you will not divulge the existence of the project or even answer a question that could divulge the existence of the project. It's just that you sign a contract with the US government and the funding would show up at the right place at the right time. There's a large number of covert projects that go on in the United States that none of us are ever aware of. Per quanto fantascientifica, prende corpo la possibilità che le armi atomiche continuino ad essere sviluppate nella speranza di poter contrastare un giorno un eventuale attacco da parte di civiltà di origine extraterrestre e ci si domanda se sia per caso questo che nasconde il cosiddetto progetto delle guerre stellari. Big enigma. When Star Wars was brought out as an idea which was before Reagan, actually, they wanted a weapon system they could put in space that would stop a ballistic missile. That was the concept. Now if that ballistic missile happened to be coming from another direction other than Earthbound, could it do the same thing? Lo scenario che si propone è qualcosa di assolutamente catastrofico e la possibilità che qualcuno si illuda di poter combattere eventuali civiltà extraterrestri con le nostre armi atomiche pone dei rischi incommensurabili per l'intera umanità. If beings can travel in time space, then anything we would put in orbit as a weapon would be like going against Genghis Khan with a firecracker. Ancora più spaventoso sarebbe se lo spauracchio degli extraterrestri venisse utilizzato per nutrire inutilmente un'industria degli armamenti che vede nello scudo stellare una fonte di profitti praticamente illimitata. A questo punto vengono alla mente le parole che proprio Ronald Reagan pronunciò dopo essersi incontrato con il premier russo Mikhail Gorbachev. I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet outside in the universe. È curioso notare come Reagan abbia ripetuto quel discorso in quattro diverse occasioni, di cui una addirittura di fronte alle Nazioni Unite. L'intera umanità rimane quindi con un grande punto di domanda. Se gli extraterrestri non esistono, quanti miliardi di dollari verrebbero sprecati per arricchire il famoso complesso militare industriale a discapito di innovazioni di tipo pacifico, di cui l'umanità necessita ormai con urgenza irrinunciabile. Se invece esistono civiltà extraterrestri che sono in grado di penetrare a piacimento la nostra atmosfera, quali sono i rischi di uno scontro nucleare con queste entità sconosciute? E a chi toccherebbe in quel caso prendere decisioni che riguardano il futuro dell'intera umanità? Abbiamo chiesto il governo Unite perpettare il mito che tutti ufos possono essere spiegati in down-to-earth e convenzionali termi. Quando si tratta di eventi di questa natura, dealing con il grande nonno, abbiamo bisogno, credo, più openza e una seriosi pursuit di fatti di nostro governo. C'è una seriosi possibilità che ci sono stati visitati e ci sono stati visitati per molti anni per persone di outer space, di altre civilizazioni, che ci sono stati in caso alcuni di questi persone in futuro, o ora si sono stati costituiti, a chi sono, dove sono, e cosa che vogliono. e credo che è il nostro lavoro di cercare di trovare se c'è realmente qualcosa in l'air, dove si viene, quale è l'origine e quale le intenzioni. Grazie. Grazie.